Roma Atalanta, la formazione scelta da Luciano Spalletti Motogomme donati dal 1970 al leader nella vendita, montaggio, controllo dei pneumatici per moto e scooter Per sfidare l'Atalanta nella 32esima giornata di Serie A 2016-2017, Luciano Spalletti ha scelto questo 11 scolare Scesti tra i pali, difesa 4 con Rudiger, Manolà Spazzo e Mario Rui Centrocampo con De Rossi e Strothman, Salah, Nainggolan e Perotti che agiranno alle spalle dell'unica punta Eddingeco Motogomme donati dal 1970 al leader nella vendita, montaggio, controllo dei pneumatici per moto e scooter Pirelli, Metzler, Dunlop, Bridgestone, Michelin, Gomeslick, Mescola, Strada, Enduro o Scooter specializzati in Harley Davidson Da noi troverai in anteprima tutti i nuovi modelli di pneumatici moto a prezzi incredibili Con montaggio in tempi rapidissimi Motogomme donati, unico punto a Roma, Pirelli Ride Passion Motogommeion americulu Musica Grazie.